Salve a tutti amici e ben trovati, sono i prossimi Terri ed eccoci qui per un episodio di Crusade e King's Threat, sono qui col carissimo nuovo Basilio Scradiano II dell'impero romano, pronto a continuare all'avventura di Erna. E allora, abbiamo tantissimi problemi e Short Reign si tracca da questa rivolta sia di questi vassalli, Giosalemme, Nicea, Friuli, Pondus, Benevento e Genua e dall'altra parte abbiamo anche un altro di Benefaction con Egitto, Cartagena, Taretta, Badaos, Mesopotame e Vallacchia, più altri due alleati, insomma davvero si è messi malissimo. Se abbiamo qui la situazione è migliorata, la propria di Roma, e loro forse sono 36.000, andiamo in Egitto, perché lì sono di più di noi e in più hanno sentato un per cento, quindi sono davvero molto ricosti. Sentiamo un 5 che vuole subito arrivare, e noi ci riusciamo ad arrivare, mentre Giosalemme è scappata, comunque il movimento è lì, ma che Giosalemme sta scappando, ok, lei ci può aiutare, ti prego aiutaci, ok sono partiti, come va qui, 40 e 65, e mi spero che, non so se sia un buon tratto di uccisioni, non abbia questa abilità. Comunque dipende subito da Egitto, Giosalemme è un altro partner per Roma, sicuramente andrà a Roma, e non deve profittare per attaccare loro. Allora Giosalemme con chi è? Nicea, ok, poi Nicea e Giosalemme, quindi andrà a toccare Egitto, non 200, già va almeno 30, come vedete. L'Egitto, a Cartagia e Taret, diciamo che l'Egitto è un po' problematico, l'Egitto è tanto problematico, posso vedere l'Egitto, allora l'Egitto è Taret, Baros, Vallacchia e Sardinia. Questo è questo, è il nemico, enemy, andiamo a Giosalemme, proviamo un po' a salire, vediamo tantissimo, non mi interessa, cioè raga, io ne sono già pochi, quindi non è utile pensare a Bianca, Ginevogna che ci sta aiutando, il grande livello 9 non mi interessa, qua il Conte d'Abbret non mi interessa, sono più in rete. Posso vassalizzare quest'uomo, che non sarebbe come cosa, lo contro a Malta, nemmeno che non mi hanno preso a Malta, i maledetti, sì, excellent, non vassarlo, e la questione è molto delicata, devo dire, sta venendo anche moltissimo, perché per prendere tutte le capitali, 30 capitali, ci costa tantissimo. L'Egitto, come ho detto, con chi stava, aspetta, Taret, Catteguena, vado anche in Spagna, però è un bel problema. Qui, Malta, qua in canale, tutta la Spagna mi hanno preso, i maledetti. In Spagna non sono le forze, scusate. Sono 17.000 E non ho queste forze militari. Perché non prendo qualche... All order? Possiamo prendere, perfetto. No, ho già messo in all order, quindi non va bene. Dove sono loro? Questi qua, sì. Ok, vediamo lui. Tu vai a Cipro, vai. Non mi importa quanto ci stai, basta che ci vai. Quindi prendo un solo order, non posso prendere un altro. No, vabbè, prendiamo 8.000 a questo punto, non è giusto. Perché solo uno? Ok, ma non ho preso... Il mio erede. Ransom 500, non accetteremo mai. For the favor, non accetteremo mai. Perché il mio intervista gli da 50. E io non mi cerco di prendere i ready. Questo è bellissimo. Cioè, io non prendere i ready, mi cerco di prendere i ready e mi tolgono tanto. 31, 30, 32... Lo dobbiamo togliere il 30, mettendo di nuovo noi. Anche se non è già caduto, però vuole evitare, sinceramente, che... io cade mai nei mie 15.000 le mie stanno andando e sono tutto messo male andiamo qui in calcedonia mentre le mie stanno lì ci costano anche un po' di soldini ma che devo fare veramente sono messo con le spalle al muro 17 anni provaci quanto facendo che possa morire ti prego mori ti prego mori si è morto è appeso tanto ha perso però c'è un nuovo o c'è barce che non vuole uccidere tu sei il prossimo 22.000 uomini se tu uccidessi a te si perdebbe a gran parte non mi destra niente ok allora allora non posso evitare nessuno non ci credo costanzia figlio mio figlio pover'uomo adesso non posso fare niente perché non lo so questi qui sono arrivati come ci stanno ok arrivo anche i tedeschi perfetto se mi aiutano qui sarebbe ottimo cosa possiamo fare mi sembra che qui red gain non so red per una vita della paura ora con un nuovo assallo è che bisogna fare qui quanti 13 mesi da non so neanche tanti devo dire excellent dove è successo va bene così inizio di attaccare una capitale vado ad attaccarci abbiamo fregati per fortuna siamo stati 93 addirittura c'è così la spazio è indipendente qui è caduta non ho fatto niente neanche c'ho il tempo di andare offer peace devo attaccare il pontus dove sta il pontus sta qui troppe guerre troppe sparse da quella è un bel problema stagione mi piuttosto conquistare questa città sarei contento 150 fazione chi è questa fazione meduini libero e fegge già siamo in guerra e allora africa guerrista e qui cos'hanno che l'altra vanno tutta la spazio ma che c'entra la spazio è che non sono anche i miei possedimenti diretti cioè non è giusto che con questo i miei ducati cioè i ducati i miei passali hanno vinto hanno vinto e raga e questo è quanto cartagena badoz taret l'egitto è corsica e corsica nel suo punto non resta che andare a fare basta dove stanno questi fiammati qui mamma mia 20 che rabbia che rabbia andate voi qui che rabbia cipro cipro si si conquista però che rabbia veramente da me 50 20 no la calda non voglio usurparla che voglio vassalizzarla cioè avrei così avrei più famiglia avrei despota despota 3 4 5 potrei fare l'allianza delle molte corone potrei fare così vediamo un po' ce l'ho già preso anche il chrono torti ne abbiamo corrente 8 cioè mancherebbero due in teoria però no non mi va se non mi va l'allianza di chrono non mi intercourse exposed abbandoniamo va prendi soldi e vattene qui sono 77 faccia va là che avete qui una pesata retta ragazzi purtroppo prima o poi una guerra mi avevamo perdere abbiamo vinto tante ci abbiamo provato il bello è che io ho ucciso il capo la fazione l'ingitto e qui siamo presi lo stesso tutto non è una cosa penso corretta questa cioè che 14.000 stanno avendo inferiore numerica com'è che siamo così pochi ora e non le 7.000 sono ringaluzziti sono 10 aspettanti 2.000 friuli e friuli potremmo uccidere anche venezia e allora murder da un po' come facciamo una pace ai 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 davvero siamo 16.000 ok vediamo un po' che succede perché io mi avvicino a loro subito ho scoperto subito ho scoperto ma veramente subito intanto 2.000 35 bride più risolto e vatte maio che anche da scoperto magari riusciamo a fare una bella uccisione e maio ma falda ma falda ok 15.40 addirittura perché mi stanno attaccando in frattempo e abbiamo perso se mi arrendo che succede you get a low atonus vassal cioè lo rimango con me mi sa questa guerra dovevo accettarla mi sa io quanta 4.000 dove li ho questi quanta 4.000 che neanche li vedo dove vanno nel sud o al nord vanno al nord ok dove vanno vanno a Ravenna va bene vediamo se abbiamo altri uomini intanto qui a Ravenna rise all year c'è un nuovo posto navarra tu converti ci mancano vedete ho dei vuoti qui ora mi sento male abbiamo anche questi territori qui che non ci vanno che poi quello sia indipendente no grazie continuiamo con l'Italia tu prova una cultura attivoli da proprio stesso 11.000 va bene ah altra libertine faction e quando mai military indipendent faction jazeera ora pure jazeera same gift c'è c'è anche il fatto che noi abbiamo un desperate bravo un bastardo bravo nelle uccisioni però che fa non serve a niente cioè non serve a niente the fight attivoli e va bene siamo anche in debito ora e chiamami alleati che devo fare non lo vengono visto che sono qui usiamoli e di fare in si che progress speed scrim murder assolutamente assolutamente chiamami ai nostri alleati che devo fare ma ma quanti ransom possiamo fare quanti ransom sono in totale 24.000 di 7.000 e 3.000 qui diciamo che siamo un po' in difficoltà la gemana dove sta gemana tutto questo o poi no andiamo qui invece a venezia no 170 no e vabbè chiediamo soldi assolutamente 1200 grazie dio si è lodato la nostra corte repiro cioè la guerra precedente con jazira è fatto di voler sistemare tutte le regioni come voglio fare io mi ha fatto fare questa guerra qui come andiamo 5 su 30 addirittura mamma mia ci sono disprese in mente a fare questo creare razionali arriva ecco gli alleati perfetto a meno questo e allora se arrivo alleati si va a picchiare sono 12000 anche la gemana nemmeno questo almeno lo sono scappando scopendo è stato già scoperto quindi proviamoci va bene ok qui c'è il ponzo che ci attacca ah il ponzo ci aiuta seguiamoli guarda come cercano di scappare i maledetti che è 91% eeeh vuole indipendenza poi con 26000 mamma mia independence war pure di tutti indipendenti devono essere dall'impero romano liberano Roma nel più breve tempo possibile mentre mallacchia independence war sardina independence war demira independence war vado a voi a fare guarda lì independence war veloce la corte perfetto quello è nudo ma quello è nudo chi è che è nudo scusate Roma di lupo al 100 hanno un pigino mio chi è nudo mi allede scusate per capirci ok consiglio niente allora no adamita ma che perché è nudo se non adamita voi stanno andando al nord il libero Roma 4 mesi me la sto rischiando eh 26% che lo continua a scappare quindi è proprio inutile cercare di seguire perché sono molto veloci 50% qui mettono in caso si utero le scatole ok siamo non tover 100% ti prego cadi ti prego cadi cioè no dai so be hit ho perso dei territori no hanno detto dei hook su di me va bene poi allora friuli pontus benevento genova cipro non mi scorderò di voi stavolta creta questo non so perché questo non so perché pure lui tutti i suoi su di me luca il principio di salerno luca di salerno venezia ovviamente tu mamma mia quanti quanti questo è cuneo mamma mia tutti loro tutti loro dovevano pagare la cara e allora si sembra anche giusalem nel mezzo dove sta giusalem costantino tu 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 si si proprio tu allora siamo a salerno questa donna sei in gift si prego anche stress e offre passaggio normale perfetto e allora questi mille uomini che facciamo questi uomini qui 22.000 uomini li mandiamo subito a jazira prima che continuano a rompere le scate andiamo pure nella capitale non mi chiede se noi perdiamo e vabbè vorremmo perdere ex ante non mi interessa non indossi per il patriarch e vabbè allora faccio una cosa su su di lui star scheme tu il controllo ma in questa giovane qui c'è la vecchia indipendente cioè davvero potremmo puntare a fare la visione della dinastia omnicron c'è mancano due mi sembra un poco you don't you currently 8 fulfill this requirement is a minister ruler i guest si ma quanti dovrò essere non mi ricordo va bene facciamo una caccia no ramson ancora si barone anton si può sposare mio figlio io grandson lei che duca di lago e bosnia e così diventa anche lui duca lui ma tu mi car 100% siamo play si si ho tutti i scambi i favori dove incalcere ramson meramente 30 così tutto a posto 50 da questa 50 da questo da dove sono le mie via mare si anche sono su metereb sinceramente calda se ho fatto queste qua prima sicuramente avrei avuto meno problemi io in depth ok lo so no vabbè lascio contro a roma senza tassa addirittura senza tasse extempt e arriverò arriverò stavolta e sotto sarò molto più cattivo che mai cune oppure release proc ah si che posso accettarlo così quasi però non altro qui sono 7000 forze addirittura quanti vuoi ho perso guarda che arrivano gli altri alleati fermati un attimo no non posso più fermarmi o forse si se arrivasse prima le mie forze sarei felice e che me ne frega ostaggio perché in guerra ci vado per la guerra con jazira perché you lost bank gracious bonus per la juliana la maledetta eh si tutti loro contribution maledetti tutti sono poi contomati questo è il bello qui combattono ti prego dimmi che combattete ok almeno questo e si che dobbiamo fare dobbiamo dare soldi cercare di ora di cercare di resistere solo questo darci soldi caro patriarca 22 ok lui è come una famiglia le scusate di solito che è lui nostro figlio viene tutto venire fate voi la guerra e non faccio più niente non faccio più niente d'ora in poi che è proprio it ha una guerra questo è buono wolf of blood lui chi sarebbe non è mira mi piace questa cosa mi piace ok continuiamo con ajup don't write così abbiamo gli schemi bada bada oz lei sarebbe lui bada oz se si guerra granata no vedete solo come si posso conquistare non posso conquistare niente perché non lo vassalizzi as you demand quindi in pratica non potrò mai fare questo non è che intorgo questo e così potresti stare in questa genere qui cattagene invece sta guardando con me va bene la sardina combattere con me questo poi è nudo non so perché è nudo la vallacchia che non è ancora con jaziro ok e adesso è che non faccio niente i miei uomini qui i miei aiutanti stanno conquistando a caso proprio e allora andiamo qui il messopotamia rai so io come mi so votami intanto mi vuole bene va bene e anche insomma mia famiglia quindi craven non ratify leach dynasty king slayer murder non posso essere un murder va bene non mi interessa tutto questo guadagnia si mette in pigione despo juliana e ribellione liberano su perché questa qui è incinta grazie per i 30 e noi prendiamo testi di perché posso abbiamo messo tanti vassalli se ci ora non si può più pagare in qualche modo bloccato il concilio mamma mia vediamo come va il concilio ora c'è lui che è meno un 25 lui è un 13 a me non sono malaccio però capite che la se mi trigger è tantissimo a me se sono qui tu vai libera questo genere qui tu va invece qui mentre questi ok siamo almeno 78% sono 13 mila perché non libera scusami 8 metri addirittura dov'è qui vediamo un po' riuscire a fare la cosa siamo in carcere se non posso fare niente giocirà penso sia giusto come post alimenti no si sempre dubbioso e questa guerra qui mi sta davvero dando tanto fastidio ok voi liberate le città mentre andate verso la capitale perfetto lo rompe dosi uomini e andiamo a prendere il despota di jazira che sta qui lui proprio e mi aggiungo dependence war enemy quindi secondo me siamo dentro la serbia con noi e sarà un po' difficile rimuorsi perché la testa mi dice fai le simile di croc che non l'hai mai fatto potrebbe essere una buona cosa distrugge pure questo che se mi frega ma alcuni dicono prendi tutto ripieni tutto ciò che è nostro come giusto che sia quindi sono un po' distrutto da ciò 100 900 bravo bambino quindi sono liberato tutto andiamo raggiungere prima che questi qui fanno ci fanno la gage bang con attri scaltrezza andiamo tutti qui nella capitale che lì stanno andando cerco una vallacchia qui stanno tre mesi ma va bene ma se non prendiamo la guerra cosa buona giusta è morto un rivale perfetto mi spiego lui ma per lo stress così perché sono giusto c'è sono un murder c'è sono uno skimmer però questo tempo sono giusto e quindi non ok questi qua che stanno a fa il dux di friule dopo che sei indipendente si ti fa pure per il culo e allora come andiamo qui 100% che ha preso lui e beh dai force demand è state che vi dico c'ho una mezza idea con jazira perché vi dà un bello segnale da sono manchini slayer quindi execute stesso che sono generoso return claim per facciamo così qua chiamano l'impero però così per altri claim che ho fatto non voglio soldi non voglio presto mi rapporti con il papato ok disbando ok ragazzi è questo tutto questo casino e abbiamo una cronotoy molto bassa mi aspettare tantissimo per te lo cambiare 15 anni e molti sono anche resi diciamo indipendenti presto dei trade ce l'hanno tolto ecco lui è l'indipendente si si guerra lei broke the trees duca di georgia restauro in georgia o scirvan adesso non posso fare granché davvero niente posso fare l'italia come va l'italia l'italia non è contumates no è caro ninja vedete questo qui ambrogio e un po' c'è il matrimonio furbesco your granddaughter sei anni è madre lineale però ci deve pure però un po' così apre il controllo di italia con altro regno la britannia come andiamo questo foglio di guerra un po' claim no costantino claims no holy world possiamo fare che lui cos'è è cattolico quindi non so fare holy world contro i cattolici vuoi dirmi questo questo è meraviglioso quando ci sono cattolico mi sa calabria calabria questo va alla vallacchia declare war sono in pace siamo un po' bloccate mettiamo un attimo tre per favore sono anche molto stressato andando alla corte e allora mirna my king's woman a sogget così before mirna can absorb up dangerous io ho impiso mirna e given it red minna che sarebbe scus un conto my test no non voglio avere il problema con la famiglia facciamo questo il penetrato ranker perfetto poi c'è qui qualcun altro si facciamo sicuro che ci dà meno stress mentre una guerra contro la nubia declare war c'è la corona scusate lui è contumale mi serve poi un altro contumale in più non sai mai come cosa qui è stata presa la siria la ragione è qui perfetto c'è un piccolo bambino le clar war cufa no il ducato di tiberiano di cufa di hamid non siamo mai a riunire un po' l'impero anche perché è una accessione ho un po' di problemi con la successione vuol dire di un regno intanto un altro tratto corto shadow chiamano la corte si tanto che non lo facciamo mi sembra giusto allora fate entrare i miei uomini allora durante i miei uomini considerate before listen to spie malice he say give him some resist time for analyze if may speak in front of the line quindi c'è un meno con il papato corto jaster e perde opinione il papa non è proprio adesso opinione sinceramente perché un po' fu vassal rompe anche le scatole tutti core jaster bello che c'è il papa lì che c'è in gioco da noi qui tutto da stress come touch ci da massero pino meno 5 proprio pino meno 20 no no facciamo sì qua siracusa devo fare qua c'è la città di migliorare kipsela 420 abbiamo city founded una città fondata così c'è la città e i miei affari qui sono finiti vabbè di questo sono molto contento neanche non sta accorto che possiamo mettere cose di nuovo allora qui ci da è un viola quindi è ottima fattura ma solo delle cose qui vediamo che cosa di migliore solo muhammad che ci ha pietà e grandeur spirito prophet dammi questo sembriamo un po anche il come si dice la leve in qualche modo qui c'è un libro che migliora aspetta small boost qua c'è la casta e così per il diplomacy e qualcosa per l'intrigo c'è marziale monthly lifestyle experience di learning intrigo eccolo qui che sia assolutamente sistemare il cos'è questo crime and punishment ok abbiamo tanto sistemare proprio tutto crime and punishment assolutamente lui è in carcere di jazira è statene lì statene affatti la vacanza ma questa è stata greca è un messo play perfetto io vorrei fare una cosa una piccola festa per pedestre esempio magari meno di rapporti con i vassalli so che perdono tante soldi ma devo fare questo welcome friend ok fissi poi anche la nostra corte come va col physician abbiamo e lei che ha novice physician va bene finisci con desperate conto madres dentro amici anti anti quale c'è qualcuno per questa quale la coefficient good average average e metterò anche lei a point avrà un doppio lavoro no io rispondo in modo secret assolutamente io non voglio muoio muoio è ucciso proprio lo stesso no gregorio voglio salvare in qualche modo vabbè va che vuole mi ha detto che sui ballacchia declina tu non hai capito tu non hai credo niente ancora allora andiamo un po' qualche meno su lui rush duca restor rush che no duca con te no despota costantino no despota no duca di calabria e allora ragazzi questo viene qui il episodio di oggi con questa bella divisione impero del taret della vallacchia dell'egitto cartagina e balaos questi quattro regni e c'è anche la nubiana che potrebbe essere conto madre se in teoria se le more le rete è sempre lui scusami è successo le rete c'era qui un conto madre se me lo ricordo me lo ricordo bene clement tutti i macedon sono come è possibile lei era non è che è morto il vecchio marito ma che è successo mi ricordo c'è lei no lei era questo è stato ucciso tutti house macedon vedi che sta succedendo non lo so your granddaughter non sarei male accettabile pure quindi accettiamo e per tutto ragazzi fino a qui vi svolgo con questa brutta questione che il nostro basileus ha 61 anni c'è morto del nostro e alex è fatto tanto tantissimo proprio che lui muoio mi sembra il nostro figlio dannoci qualche ducato qui abbiamo un'erede che non ha granché la credo pure come li per aver sposato con una ragazza che è solo intelligente ha venuto tutti i tratti però sono divisi lei è duca essa dell'of bosnia m m non mi piace questa cosa lei vuole un artefatto lei chi sarebbe cosa vuole m romanskin power sai che ti c'è piatilla va piatilla di qui sono a posto devo cambiare un po' di cose comunque ragazzi finiamo qui l'episodio di oggi in caso vi fosse piaciuto invito a lasciare un like a commentare e di la vostra in caso non avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina c'è le notifiche con i video che usciranno e vedi così mi soccano e viola dovrò fare live e sovra i social come facebook instagram e tiktok così per stare più sul lavoro con altri contenuti materiali dai miei offerti noi ci vediamo al prossimo episodio nei prossimi terri passo e chiudo ciao ciao Grazie per la visione!